2 giugno, festa della Repubblica, festa di tutti gli italiani. Apriranno alla manifestazione alcuni brani musicali eseguiti dal corpo bandistico Città di Offida che ci tiene a ringraziare tutti voi di essere intervenuti, le autorità presenti e in particolar modo il sindaco e l'amministrazione comunale per aver avuto la possibilità di esibirsi di nuovo in questa importante giornata. In Italia il termine che in modo particolare viene accostato alla banda è la marcia. Si può indubbiamente affermare che la composizione per eccellenza che distingue la banda italiana è la marcia sinfonica. Proprio per questo motivo la banda cittadina eseguirà del maestro Nino Ippolito Graziella. Signore e signori, il corpo bandistico Città di Offida dirige il maestro Ciro Ciabattuni. Grazie. 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 Grazie.